condiviso condiviso buonasera buonasera Carlo Massarini che dono che ci fai grazie non ti preoccupare un po' di commozione è un piacere in fondo siete non so quante migliaia e spero di farmi finalmente vivo visto che è considerato che è una pagina che va avanti anche senza di mente allora buonasera Giuseppe Andrea guarda ti sono grato e a nome di tutto il gruppo siamo arrivati a oltre 80.000 iscritti e il merito non è mio, il merito è della musica naturalmente e di chi ce l'ha donata con una storicizzazione e una puntualità come la tua ti dico subito una cosa parlare di musica con la musica non è possibile parlare di archeologia con l'archeologia non è possibile però tu con le parole sai entrare nello spirito della musica e questo è un dono ma questa è stata un po' una mia caratteristica sempre nel senso che io sono sempre stato molto appassionato e quindi come come tutti coloro che sono molto addentro a una cosa ho avuto anche il dono se vuoi di sapere abbastanza comunicare quindi seguo quello che è il mio ruolo seguo quello che io penso sia il mio ruolo cioè l'interfaccia il medium fra coloro fra la musica l'arte in generale e la musica in particolare e coloro che magari non la conoscono bene fino in fondo e quindi la cosa che mi diverte di più è quella di portare delle cose nuove a un pubblico più vasto ma del resto è anche la cosa che mi diverte di più scoprire io cose nuove per me stesso quindi è un doppio piacere e mi ci trovo abbastanza bene e guarda sai che è questo che dici è uno dei temi più discussi nel gruppo ciò che è il trascorso la tradizione musicale e ciò che è il presente ciò che sarà il futuro io voglio dire ai nostri ascoltatori che io ho con me questa delizia che è Vivo dal Vivo 2010-2023 che è l'ultimo libro è uscito da pochissimo di Carlo Massarini che racconta oltre un decennio di live Vivo dal Vivo tu stai benissimo tra l'altro e non so se ti ha fatto bene tutta l'endorfina del tour bitolziano e e questo tour che continua invece per raccontare il tuo libro ti dia ancora più grazia perché insomma a parte il fatto che tu sia inossidabile ma ma ti sentiamo guarda perdonami no me lo dicono tutti non sono inossidabile invecchio come tutti i capelli si fanno sempre più bianchi quindi tranquillo cioè sono sono umano non sono Mr. Fantasy sono Carlo per quanto riguarda invece il passato e presente sì certo capisco capisco benissimo perché c'è chi è rimasto legato al passato e che pensa che quella stagione sia assolutamente irripetibile parliamo naturalmente della stagione degli anni 60 70 forse 80 e chi pensa che invece come me che quella stagione è stata una stagione assolutamente fantastica probabilmente irripetibile nella storia della musica nel senso che non succederà mai più però una tale densità e una tale come dire voglia anche di 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 stupire di avventura di scoprire mondi nuovi quella probabilmente è un'era irripetibile all'età del loro del rock e lo sappiamo bene però come ho scritto anche nell'introduzione c'è c'è musica c'è c'è adesso musica in giro è che bisogna andarla a scoprire è che i mass media in generale eh questa sono le pagine della mia introduzione intanto salutiamo anche Sara che sta in regia non so bene dove in remoto e e ci manderà un po' di immagini la la io penso che che la musica adesso sia una musica diversa nel senso che sicuramente è molto più aperta delle influenze che vengono da mondi a volta erano lontanissime che non si poteva a cui non si poteva accedere insomma penso all'Africa intanto e poi anche che era Heidi al Sud America però questa musica sta diventando lentamente una musica sempre più globale sta diventando una musica che si intreccia che si mischia che fa contaminazione che poi in assoluto è la cosa di mi piace di più a partire dai miei amati traffic che mischiavano un po' tutto no rhythm, blues, soul, blues folk, jazz ci mettevano un po' tutto dentro musica classica anche no face no name no number quindi credo che la musica di adesso sia diversa ma che valga quanto quella di una volta forse dal punto di vista artistico no ma noi però la viviamo cioè la musica è bella anche quando riesci a viverla e quando riesci a viverla dal vivo come in qualche maniera richiama il libro è la musica dal vivo quella che ti cattura quella che ti fa vedere un performer all'apice delle sue possibilità o perlomeno che si trova nella condizione di poter esprimere al 100% delle sue possibilità artistiche e magari a far anche trascendere con lui il pubblico il pubblico che è davanti come uno sciamano perché poi alla fine questo è un po' il senso della cosa essere un po' sciamanici in quello che si fa e quindi e questo non si è perso però Andrea cioè questo questo c'è ancora ma ti riguardi devi andare un po' a scoprirla devi andare un po' a scoprire la musica che c'è e a quello serve uno come me che si fa 120 in realtà erano 180 naturalmente abbiamo dovuto scrivere per limiti di pagine con delle immagini straordinarie bellissime sono delle foto cari amici ascoltatori mister fantasisti dico belle ma belle proprio godine allora guarda dove uno dentro sarà ci segue ci aiuta cominciamo dal dall'inizio proprio cominciamo anche dal e poi vediamo un attimo gli anni perché ogni capitolo è un anno e quindi vediamo come si scorre allora questa pagina che stava facendovi vedere Sara è un close up di una foto di Omu Sangaré diva africana nella quale sotto c'è Anna Calvi che scrive una cosa secondo me è veramente bellissima e la guardo dal dal mio libro perché sul telefonino è minuscolissima credo che un live non debba essere la presentazione fedele di un disco il live è una belva vivente che prende forma in quel preciso istante con quel gruppo di persone è il momento che si viene a creare insieme è bella questa sua definizione di belva è vero ogni tanto il live diventa come una belva incontrollabile noi abbiamo un esempio costante di performer che veramente sono indemoniati nel senso buono del termine cioè che gli entra dentro il daimon diceva il daimon la follia dico la follia la follia dello spirito la follia della filosofia ma sai quanti mi hanno detto anche Fatoumata Diawara lentamente mi ha detto è la follia che 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 spinge gli artisti e questa follia va rispettata perché non è una follia cattiva è una follia e così si lascia anche la filosofia per Platone attenzione dalla follia da un atto meramente logico su questo della performance perdonami perché non ci siamo messi d'accordo stiamo discorrendo ma io ho dovuto riprendere guardando il tuo libro e pensando alla idea di performance un antico libro di Paul Zumthor che è La presenza della voce e guarda a un punto dice la performance rifiuta la mimesis e sceglie di essere un'arte priva dell'antica illusione rappresentativa un essere umano ha luogo qui davanti a me luogo attraversato da corrente che nessun senso immobilizza ed ecco è quello che tu ci stai raccontando con questo libro e con queste bellissime foto Sì poi ognuno chiaramente ogni scrittore ogni giornalista la interpreta a modo suo io ho cercato di interpretarla in maniera molto emotiva nel senso che ho fatto 120 racconti quella sera stessa anche se chiaramente molti li ho dovuti ricostruire grazie a YouTube e cito anche il fatto che alla fine di ogni articolo c'è il QR code per cui voi se ci cliccate sopra vi porta direttamente su YouTube e dentro YouTube potete come dire trovare anche il concerto stesso come vi sta facendo vedere Sara in bassa testa per ogni concetto c'è la self questo live con tre batterie bellissimo la cavia dell'auditorium sì ma mi consenti dire che il vecchio e il nuovo qui infrangono ogni muro perché King Crimson è il gruppo storico ma è uno dei gruppi che meglio di altri ha rinnovato e è reso più acido più rock più forte più denso più potente il suo suono non credi che sia uno sperimentato di più Andrea fammi finire questa presentazione del libro così che la gente capisca un attimo che cosa c'è dentro poi abbiamo anche le doppie pagine che voi mi avete chiesto di cui volete parlare e ne parliamo fra cui anche King Crimson ovviamente allora quindi si parte così poi ci sono due introduzioni c'è l'introduzione di Vasco e c'è la mia introduzione Sara faccele vedere ecco Vasco è come se scrivesse una lettera in qualche maniera e racconta se stesso nel rapporto che ha con la sua scrittura che ha con il pubblico che ha con il suo mestiere che ha con i Rolling Stones quindi riesce a raccontare con parole molto molto sincere devo dire che sono rivasto quasi sorpreso dalla dalla sincerità di Vasco nel raccontarsi e a un certo punto scrive nelle canzoni parlo di cose personali e profonde cose che non confesserei neanche a un amico sono io mi spoglio del mio ego e sono autenticamente io con la pelle viva anche è un bellissimo regalo che mi ha fatto è un racconto di un top performer Vasco è assolutamente il numero uno in Italia sia per numeri sia per credibilità sia per amore proprio popolare due immagini questa qui la vedete col dito medio alzato il Vasco incazzato quello come dire duro di una volta che adesso naturalmente è diventato ovviamente più intrattenimento più spettacolo ma comunque quello è il Vasco e poi c'è il Vasco che sorride nelle pagine successive e quando sorride sorride veramente con una grande dolcezza poi ci sono le mie due pagine di introduzione questo è il Vasco poi in pagina poi ci sono le due mie pagine di introduzione nelle quali racconto un po' quello che è dal mio punto di vista il senso della musica senza confini adesso cioè di una musica che è aperta di una musica che è in grado di raccontare storie e storie molto molto eclettiche io ho una grande ecletticità cioè proprio il mio gusto musicale è molto molto eclettico quindi a me piace l'idea di spaziare e se le vedete ecco proprio se ci fermiamo su questa immagine abbiamo Marisa Monte Brasile Prince poi abbiamo poi abbiamo David Crosby abbiamo Fatoumata di Awara abbiamo Marco Smiller abbiamo Shabaka Hutchins abbiamo Lana Del Rey abbiamo Caparezza Caposella Sting Rolling Stones D'Angelo Patti Smith insomma è veramente un viaggio molto molto eclettico nella nella musica contemporanea e poi comincia invece il percorso durante negli anni sono 12 capitoli perché il 20 e il 22 causa pandemia aveva pochissimo materiale quindi li abbiamo raggruppati questo è Prince Prince a Roma concerto spaziale Prince è veramente uno dei massimi interpreti lo sapete la sintesi fra il mondo di James Brown quindi il mondo del funk e la psichedelia di Jimi Hendrix 2010 questa è la doppia pagina che apre ogni ogni articolo e in alto a destra nel caso di Prince vedete tutti i nomi che ci stanno di quell'anno poi c'è Zucchero Zucchero anche lui secondo me sta perennemente sul podio lui della musica italiana se non della musica nera come lo è stato per tanti anni Prince Zucchero ripreso durante la sua tournée quella la session cubana quella con tutti i musicisti cubani influenzato dalla musica cubana con la bandiera dietro con la macchina finta davanti insomma spettacolone che lui poi ha portato in giro tutto il mondo 2012 abbiamo il concerto epico di Springsteen sotto la pioggia a Firenze allo Stadio Franchi quando verso metà del concerto quindi dopo le due ore circa ha cominciato a piovere piovere sempre di più un vero diluvio si sono affogate tutte le mie macchine è rimasta solo la piccolina che ho estratto come lo stivale del cowboy dallo stivale che ho estratto dalla tasca e ho fatto queste ultime foto riuscendo a cogliere questo momento che devo dire è stato abbastanza direi più che epico quasi biblico poi andiamo nel 2013 dove troviamo Nick Cave intensità fatta persona io non so se tu ami Nick Cave Andrea ma è un performer assolutamente straordinario una comunione di carne e sangue a lui piace essere toccato e piace toccare e questa foto qui non è che è stata fatta non è che è stata fatta alla fine del concerto al bis quando ovviamente uno si lascia abbondare e anche la folla no questo è proprio l'inizio del concerto è cominciato così il concerto nel 2014 si va al Circo Massimo per vedere i Rolling Stones il più grande spettacolo dopo il Big Bang l'ho definito chissà se i romani antichi al Circo Massimo si godevano gli spettacoli quanto ce lo siamo goduti noi quella sera un po' più incendiari quegli spettacoli questa è una foto fatta durante Symphony for the Devil quando tutto si è illuminato di rosso ovviamente e devo dire insomma loro veramente una macchina da spettacolo con un repertorio poi straordinario nel 2015 invece troviamo gli U2 altro concerto epico altro concerto assolutamente straordinario questo è Torino i due palchi di Innocence dell'Innocenza and Experience e dell'esperienza collegati da questa enorme passarella questo doppio muro nel quale loro si muovevano all'interno il muro chiaramente poi andava anche in trasparenza ma mandava anche immagini sembra quasi il muro di Berlino con loro dentro hanno mantenuto come dire la barra dritta in questo binomio fra consapevolezza coscienza sociale se vogliamo e arte e rock rock and roll che non è veramente mai mai facile nel 2016 invece andiamo a scoprire Ezio Bosso che è stato davvero un incontro magico nel senso che Ezio una persona con evidenti limiti fisici io non lo sapevo prima di incontrarlo l'ho scoperto a sorpresa e la sua malattia neurodegenerativa che gli stava a poco a poco mangiando il corpo poteva ancora muovere le mani suonava ancora con grande intensità nel 2016 quando ha fatto questa foto durante le prove all'auditorium poi lentamente non ha potuto neanche più suonare dirigeva componeva e poi alla fine la malattia se l'è preso ma è stata una testimonianza incredibile di vitalità di proprio di voglia di vivere e anche di saggezza e di spiritualità una voglia di vivere consapevole non una voglia di vivere disperata molto consapevole nel 2017 invece ho messo quello che è stato veramente una rivelazione per me che è stato Benjamin Clementine un cantante che viene paragonato a Nina Simone per l'intensità della sua performance dei testi piano e voce e a volte anche a seconda degli anni poi un quartetto d'archi piuttosto che altri strumentisti di percussivi eccetera Benjamin è stata una scoperta perché come ho detto prima a me piace scoprire le persone e portarle a un pubblico più vasto piano e voce e testi assolutamente straordinari io ho cominciato come Busker a Parigi e poi poi è stato notato ha fatto un primo disco ha fatto una prima apparizione al Jules Holland Show che è uno show molto importante uno dei pochi devo dire in Inghilterra e lì se andate a vederlo c'è anche il QR code nel libro troverete una performance di un'intensità veramente cioè ma ma veramente intensa una quasi trascendente cioè con questo occhio che guardava questa faccia veramente densa di emozione poi nel 2016 2017 scusate era lui 2018 vado a Perugia a Umbra Jets a vedere David Byrne che arriva con questo show pazzesco che è Utopia uno show senza palco praticamente il palco era una stanza un rettangolo illuminato fatto di sottili fili che si illuminavano a volte bianchi a volte grigi a volte rossi e i musicisti erano tutti come dire performer di strada si portavano tutti dietro lo strumento pace per le chitarre ci siamo abituati a vederlo magari per per gli strumenti a fiato ma la batteria suddivisa in tre batterie di OS no? gran cassa rullante e piatti insomma una performance veramente straordinariamente orchestrata veramente al millimetro nel 2019 andiamo a scoprire il mondo di Caposela che è un grande cantore della musica italiana è una sorta di Giorgio Gaber dei nostri giorni è portato in scena questo spettacolo che era Uomini e Bestie e usando tutta una serie di metafore sia bestiali sia di altro tipo ha raccontato il nostro mondo contemporaneo il dramma anche per certi versi in certi casi per esempio nei social lui paragona i social alla peste e dice che ci ha praticamente infettati a tutti lui credo di no francamente ma insomma comunque uno spettacolo di grande fortezza e di quadri continui cangianti di trasformazioni avete visto prima che era vestito da gladiatore romano ma insomma ci sono tantissime altre maschere nel 2020 22 andiamo a vedere Basco al Circo Massimo e questa foto che a me piace molto perché è una foto abbastanza inusuale di Basco in genere viene presa da davanti mentre fa appunto le smorfi o incazzate oppure sorridenti questa invece è presa da dietro mentre sta facendo una pirouette sulla pedana di fronte al pubblico e Vasco è Vasco è Vasco non c'è bisogno di dire altro quando dici Vasco hai già capito tutto che lui con poche parole con poche frasi con pochi gesti pochi gesti della mano oppure uno sguardo o la voce naturalmente riesce a portarti in pochissimo tempo dentro un mondo e la transgenerazionalità di Vasco ci fa capire che quello che cantava 30-40 anni fa va bene ancora adesso e quello che canta adesso probabilmente andrà bene per le prossime due generazioni e poi infine arriviamo al 2023 tanti spettacoli quest'anno questo in particolare devo dire mi ha colpito veramente molto Brian sì Brian Peter Gabriel il suo ultimo spettacolo il suo ritorno fra l'altro dopo 10 anni di spettacolo e credo 20 anni dall'ultimo disco qualcosa del genere è stato veramente in grandissima forma sia vocale che è sempre molto importante perché come ho scritto è vero che sono le canzoni che ti definiscono ma è la voce che le comunica e è anche visuale visualmente lui si è appoggiato ha chiesto naturalmente un contributo a tantissimi artisti contemporanei i quali hanno raccontato li vedete vedete alcuni di questi quadri nella pagina di destra queste sono proprio fotografie a pieno palco erano talmente belle che era una tentazione continua a scattarla anche se sono fatte questa compresa sono fatte col cellulare queste foto perché quella sera era una delle rare sere con certa sorpresa a Milano non pensavo neanche di passare per Milano invece quella sera mi sono trovato a Milano sono riuscito ad andare e col cellulare devo dire ho ripreso alcune cose le foto col cellulare sono meno belle ma devo dirti la verità ti godi lo spettacolo perché quando fai le foto lo spettacolo non lo vedi mai quindi lo vedi e non lo vedi però grazie come dicevo grazie a YouTube grazie ai concerti che molti di questi hanno postato professionalmente penso a Travis Scott penso a Gionotti penso a U2 penso a Vasco stesso e molte altre invece sono riprese più amatoriali però rendono rendono la sensazione di quella sera vi ho raccontato il libro adesso raccontami tu quello che vuoi sapere o quello che vuoi commentare beh ad una domanda e già risposta era sulla presenza la presenza della voce nella performance e ho un'altra citazione a sottoporti questa da John Blegging com'è musicale l'uomo perché si tocca in questa breve riflessione è una tematica che nel nostro gruppo è ampiamente discussa e magari tu puoi sciogliere i nodi a un certo punto a pagina 116 117 dice perciò il problema principale di un compositore che voglia produrre musica di un certo rilievo per i suoi contemporanei non è tanto di natura musicale anche se tale potrà sembrargli quanto di atteggiamento verso la società e la cultura del suo tempo rispetto al fondamentale problema dell'uomo a imparare ad essere umano la musica dice non è un linguaggio che descrive la società così come appare ma è una espressione metaforica dei sentimenti associati a come essa realmente è l'originalità questo è il punto per cui avevo in mente di presentare alcune pagine dei gruppi che meglio di altri probabilmente almeno dal mio punto di vista hanno significato questo cambiamento l'originalità potrebbe allora essere la manifestazione di un innato atteggiamento esplorativo nei confronti dei materiali accumulati da una tradizione culturale e la capacità di sintesi che spesso si dice distingua il genio dal talento potrebbe essere l'espressione di una capacità di organizzazione cognitiva Allora sono d'accordo come diceva sono d'accordo in parte nel senso che è vero che la musica è una metafora ma non solo la musica può essere anche molto diretta e sono belle tutte e due le espressioni la musica è anche molto diretta negli anni 70 quando siamo cresciuti la musica era molto esplicita le istanze giovanili venivano raccontate in maniera molto molto diretta quindi sì è vero si può usare una metafora ma si può usare anche un linguaggio diretto e per quanto riguarda invece la capacità della musica di raccontare sono sicuramente d'accordo che in qualche maniera è un'esplorazione di tutto quello che è successo prima sicuramente nessuno ormai potremmo anche dire ormai dopo a 60 anni dai Beatles diciamo è difficile fare qualcosa di veramente nuovo anche se la tecnologia e quindi gli strumenti digitali hanno consentito di fare un ampliamento notevole su quelle che erano le premesse dello scorso secolo credo che sia in realtà la musica sia una ricombinazione quindi è giusto dire che è un'esplorazione delle stratificazioni precedenti questo ci sta lui lo dice in maniera estremamente colta un po' letteraria detta era uno studioso dei Venda di una tribù africana quindi si era avvicinato al fatto di come la musica fosse così vicina alle esigenze non solo rituali ma anche di segnicità segnicità del popolo aspetta se parliamo di Africa entriamo in un mondo diverso rispetto a l'Africa gli africani usano la musica in maniera che noi non siamo più abituati a usare tanto per cominciare la usano sì per intrattenere sì per fare gruppo intorno al falò come nella prima fra l'altro inquadratura di Peter Gabriel del suo concerto con la luna che lentamente va da luna piena a dark side of the moon se vuoi sotto loro che suonano in cerchio come sotto un falò quindi eccola lì brava Sara quella del pass poi ogni pass abbiamo sempre scelto delle foto un po' particolari per i pass e questa dà un po' l'idea e quindi la musica viene usata in tante maniere diverse ma la musica viene usata anche per curare cosa che noi ci siamo completamente persi i caposela quelle persone lì ogni tanto ce lo ricordano perché sono molto perché hanno delle radici molto ancestrali molto legate in particolare l'irpinia ma la musica serve a curare la musica serve a curare letteralmente attraverso appunto lo sciamanesimo della musica e guardate anche qui anche il canto della madre questo è il caposela ma insomma si vede che si vede che non è il classico concerto pop no guardate le immagini gli scheleti le luci il suo vestito cioè si capisce che c'è qualcosa sotto che si muove in maniera diversa da una performance in cui racconta delle canzoni più o meno importanti e quindi questa tendenza nella musica africana che poi ritroviamo anche negli interpreti più fra virgolette occidentali o meglio potremmo dire europei perché poi in realtà tutte queste hanno migrato a un certo punto verso Parigi Moussangaré Fatoumata Angelique Kijou tutte persone che hanno mantenuto quel legame originario per cui fanno della musica che serve a trascendere che serve a entrare in trance poi ecco forse oggi però aspetta fammi finire il concetto Andrea però alla trance si può arrivare in tante maniere diverse che si può arrivare anche con l'EDM cioè con con la musica elettronica per dire un gruppo che uno non associerebbe a un concetto del genere no ma i Radiohead fanno esattamente questo cioè i Radiohead ti portano in un mondo eccola qui bravissima Sara e i Radiohead rosa il vero pink questo i Radiohead ti portano in un mondo diverso ti portano in un mondo sicuramente in cui i sentimenti sono più come dire più più nevrotici più inquieti più più disturbanti per certi versi però anche loro ti portano dentro un mondo ed è questa la trance puoi entrare o per via ritmica o per via di suggestioni melodiche entrare in un mondo in un mondo nel quale tu ritrovi te stesso e puoi realmente guarire quantomeno puoi guarire quella sera stessa che non è da poco io ricordo sempre questi due ragazzi che ho incontrato a Peter Gabriel che erano venuti su da Foggia da Foggia erano venuti su e gli ho detto mazza ma avete fatto un viaggione per venire a vedere Peter Gabriel e loro mi hanno detto sì ma per noi è importante questo è quello che a noi ci permette di andare avanti mesi e mesi e il nutrimento della nostra anima ed è questo il segreto della musica alla fine è questo e forse la cosa bella che tu hai centrato nel tuo libro presentando anche artisti africani e dicendo quello che hai appena diciamo profilato sullo sciamanesimo è che se un tempo no? potevamo dire se Tolkien Eds o altri gruppi attingevano alle radici anche il dub degli anni 90 attingeva le radici di un mondo arcaico tribale adesso sono loro stessi che ci offrono il loro mondo con una loro sintesi sostanzialmente scusami sono loro stessi sono loro stessi e cioè tutti gli artisti che hai citato molti dei quali sono nel tuo libro che ci offrono la loro sintesi cioè quindi lo sguardo che una volta era eurocentrico cioè i Tolkien che assumevano e sussumevano la realtà tribale oggi è invertito cioè sono loro stessi che si raccontano anche con strumentazioni grafiche e linee melodiche moderne ma te l'ho detto cioè la musica sta diventando un mashup completo cioè si stanno i mondi si stanno avvicinando si stanno integrando si stanno contaminando l'Africa giustamente sottolineavi i Tolkien Hads quando nel 79 80 loro pubblicarono My Life in the Bush of Ghosts e Remaining Light e loro loro come dire sulle spiagge sulle spiagge americane sulle spiagge quasi direi arrivavano le onde dell'Africa dell'Onda dell'Africa lontana adesso l'Africa è qui è mezzo a noi e quindi si sta lentamente trasformando tutto in una sola musica che poi è quella che mi piace è quella che io sostengo sempre le divisioni servono a noi critici quando faccio il critico servono a noi critici per illustrare qualcosa a gente che non conosce per cui gli dai degli elementi di base come è la pasta è al pomodoro no però c'è una lavorazione ed ecco tra queste ricette impegnative io ho trovato per esempio una tua bellissima espressione sul lavoro dei massive attack i massive attack sono tensione lenta che pulsa in cerca di un momento dove esplodere eccitazione paura pericolo e quel suono se fa per voi non c'è niente di meglio in giro questo è quello che dici in questa didascalia bellissima ecco i massive attack negli anni novanta hanno rappresentato una capacità di integrazione tra gli anni ottanta e il nuovo che stava per arrivare e sono secondo te ancora come dire così ricettivi capaci di captare il nuovo e guardare anche al futuro beh i massive dal vivo i massive che ormai si riducono praticamente a Robert Del Naya sì perché Daddy G si va e viene in questo concerto qui c'è la sua foto in basso a sinistra c'è c'è anche naturalmente Horace Sandy che è il loro cantante giamaicano preferito che è un perfetto un perfetto connubio questa voce un po' quasi in falsetto in mezzo ai loro pulsazioni così dark però i massive quando sono partiti sì come dici giustamente te ma insomma ma chiunque prende qualcosa da quello che c'era hanno aperto un mondo hanno aperto un mondo diverso però dal vivo loro hanno questo fondale elettronico che rimanda continuamente messaggi oltre a numeri vari ma rimanda continuamente messaggi e sono messaggi sono messaggi non so come chiamerà contro contro il sistema o o o è una maniera di passare un'informazione alternativa un'informazione che non passa attraverso i media ufficiali sulla quale poi si può essere d'accordo o meno però questo è un po' lo scopo è di portarti in un mondo di condivisione di messaggi diversi attraverso delle pulsazioni molto viscerali se andate a un concetto di massive attack sentite proprio la musica che vi entra dentro sentite proprio quel che proprio parte dal dal diaframma quello che ti entra veramente dentro e sono se ti piace quel suono quello che ho scritto se ti piace quel suono cioè quel suono che può essere un po' reggae che può essere un po' dub molto dub in realtà che può essere un po' funky che può essere trip hop poi alla fine che è il loro punto di partenza anche se poi se ne sono distaccati almeno in parte e se ti piace quel suono non c'è niente di meglio dei massive attack perché hanno quel senso ipnotico della trance come dicevamo prima che è straordinario che veramente si porta dentro poi ti fa la carna coma quella iterazione che però cresce si evolve si sviluppa non si sviluppa come si sviluppavano le suite degli anni 70 con il tema la profilazione di assoli eccetera ma era un altro tipo di sviluppo di intensità e di sintesi conta molto il suono adesso il suono è diventato molto più importante di come era 40-50 anni fa nel senso il suono identifica sempre una band ma adesso il suono e anche l'ascesa l'importanza dei produttori ha cambiato la musica ormai le canzoni soprattutto il pop che ascoltiamo alla radio tutti i giorni cosa si distingue? alla fine si distingue un pop per la melodia quando c'è e se no si distingue per il suono e tutti i produttori quelli che fanno la fila per i produttori ci sono riuscito finalmente a lavorare perché c'ha il suono perché lui sa come creare quel suono quel suono senti io devo farti una domanda sulla cura perché hai citato tu questa esperienza che la musica sia curativa e la voglio trattare questa cosa anche provando ad invitare i nostri collaboratori perché nel nostro gruppo Mister Fantasy ci sono amici che ci aiutano tantissimo sono Giovanni Francesco Lucarelli grazie a Novelli per ora dovrebbe collegarsi anche Carlo Alberto Piccoli c'è un altro Riccardo Sbanno che salutiamo caldamente in questo periodo sai che ti chiedo Carlo sulla cura c'è una foto e questa è l'unica in cui ci sei tu nel libro mi sembra e a pagina a pagina 72 e sei tu e un artista Ivano Fossati e questo sorriso questa amabilità questa corrente positiva che scorre me la devi raccontare un pochino beh io cerco allora intanto Ivano non è una nuova conoscenza come capita ogni tanto di intervistare qualcuno che è la prima volta che incontri Ivano ci conosciamo da tanto tempo siamo anche corregionali siamo entrambi liguri questo era il suo ultimo tour era un tour nel quale lui abbandonava le scene strana decisione strana ma comprensibile decisione quella di non voler più fare l'autore artista performer in come dire tutta la vita dedicarsi a quello che ti piace fare dedicare come a un certo punto ho detto cioè fare i viaggi non necessariamente per riportare indietro dei messaggi che poi trasformavi in canzoni dei messaggi o delle immagini che trasformavi in canzoni ma andare in viaggio e non doverci pensare è quanto lo capisco a me capita ai concerti vado a un concerto e dico ah di questo devo scrivere e poi alla fine sì te lo godi ma non te lo godi come se lo può godere uno spettatore normale e Ivano beh Ivano intanto è uno dei grandi autori della musica italiana cioè fantastico ha scritto almeno dieci canzoni che verrebbe la pena imparare a memoria perché sono veramente ha un dono poetico veramente fuori fuori dell'ordinario fuori del comune no ci siamo trovati molto bene eravamo seduti intorno al pianoforte prima di cominciare il suo concerto Teatro degli Archimboldi a Milano e stavamo amabilmente chiacchierato lui aveva appena pubblicato il libro per Rizzoli quello Ivano Fossati e questa foto a destra secondo me racconta un po' il se stesso cioè racconta il momento dell'ascito il momento che lui sta per lasciare la musica in generale non era quella sera ma insomma sarebbe stata una delle poche sere successive mano sul cuore ci sono molte persone che mettono la mano sul cuore come li capisco alla fine del concerto ce ne sono anche molti fotografati e beh insomma Ivano ha lasciato per certi versi ha lasciato un vuoto nel senso che comunque i dischi di Ivano quando uscivano erano bei dischi dall'altra parte però intanto ha consegnato un canzoniere veramente memorabile dall'altra parte però devi anche un po' rispettare io credo che gli artisti vanno un po' rispettati nel senso non te la puoi prendere perché Ivano Fossati ha deciso di mollare o come hanno fatto anche altri i Guccini eccetera cioè a un certo punto l'artista è un uomo e quando non sente di avere più veramente qualcosa da dire o che il momento della sua vita è cambiato bisogna anche accettare che cambi lui perché poi alla fine noi pensiamo sempre agli artisti come gente che diventa molto popolare guadagna un sacco di soldi fa una bella vita eccetera ma mica mica è così cioè gli artisti spesso e volentieri sono persone molto più tormentate di noi molto più insicure molto più indecise di noi che hanno delle svolte di vita spesso e volentieri improvvise noi continuiamo ad aspettare il prossimo disco pensando che tutto sia una linea retta ma non è la vita non è una linea retta la vita sono dei puntini che nascono qua e là e a volte uno riesce a connettere e dare un senso spesso e volentieri non ci riesce e quindi rispetto Ivano non l'ho più visto né sentito da allora li voglio molto bene e sono sicuro che è felice quando non sarà più felice a fare questa vita tornerà a fare i dischi è molto semplice certo bene cari amici Giovanni grazie Carlo Alberto lo sentite? aveva preparato delle domande bellissime su Massarini sul libro scusate vivo dal vivo 2010-2023 Giovanni e grazia abbiamo qui l'ospite d'onore parlate parlate noi abbiamo parlato cioè lui Carlo io mi sono intrattenuto ad ascoltarlo con un piacere grandissimo veramente noi dobbiamo parlare poco perché è giusto che ascoltiamo quello che dice e pensa Carlo Massarini il libro l'ho visto è una lunga cavalcata che supera il decennio è ricco di materiali è un libro molto documentato divertente le domande che suscita possono essere molte a me personalmente ce n'è una molto a cuore che non è proprio del tutto radicata nelle questioni che affronta il libro però è uno spin off di quelle questioni ed è una domanda che mi pongo spesso pure quando ne parliamo sul gruppo e cioè quanto contano i turnisti nella qualità del prodotto musicale finale dal mio punto di vista i turnisti contano molto e anche la parola turnista andrebbe in qualche modo rivista perché attribuisce gli americani lo chiamano session man è molto meglio infatti cioè turnista secondo me non restituisce la pregnanza no turnista sembra un operaio sì è vero ha più l'idea di uno con la turno di notte insomma un musicista annolo quindi io chiederei a Carlo Massarini quanto per lui contano i session man quanto contano i produttori artistici quanto contano le etichette cioè io quando compro un disco io vado a vedere prima chi sono i session man vado a vedere il produttore artistico vado a vedere l'etichetta poi dopo il resto penso e poi ho finito e lo compri poi alla fine se mi convincono produttore artistico la filosofia dell'etichetta e i turnisti lo compro però penso per esempio tu parlavi del concerto di Nick Cave e lì c'è la questione dei bad seats con Barger che è ancora accidenti nel 2013 c'era ancora poi dopo è uscito poi c'era Mick Carley che invece era andato via già da parecchio ecco secondo te veramente nella resa finale ho capito ho capito la domanda cioè Peter Gabriel è migliore come produttore artistico o come cantante studista come tutto allora è un genio come produttore intanto facciamo facciamo una distinzione diciamo perché poi poi tu mi citi i bad seats che non sono turnisti i bad seats sono parte sono la band di Nick Cave che è un cioè per turnista o per session man si intende una persona che quel giorno in particolare o anche per un periodo lungo partecipa al disco ma non fa parte del gruppo non fa parte della band fissa della persona in questione e quindi c'è una bella differenza allora se tu mi dici quanto sono importanti i musicisti i musicisti io li chiamerei indipendentemente dal fatto che facciano o non facciano parte di una band fissa direi ovviamente cioè che ti devo rispondere l'importanza è fondamentale io non guarderei non comprerei mai un disco in base ai turnisti o ai session man che ci lavorano dentro perché mi fido più della qualità del capo come dire dell'artista che firma il disco però capisco il tuo senso cioè se tu hai delle persone in particolare devi avere una grande conoscenza dell'ambiente musicale ma se tu conosci in particolare quelli che ci suonano dentro e anche in Italia mi viene in mente Alberto Radius Alberto è stato un session man straordinario perché ha suonato nei dischi di Battisti ha suonato poi ovviamente nella sua Formula 3 nei dischi di Battisti ha continuato a suonare ha continuato a produrre è un ottimo esempio di una persona che magari da solo ha fatto credo solo un album solista o due non è stato particolarmente come dire capace di mettere a fuoco qualcosa di interessante di nuovo quantomeno non per un album intero però ha dato un contributo decisivo invece a determinate sonorità quindi direi che sì è sicuramente molto importante invece per quanto riguarda la voce vabbè l'ho detto prima cioè sono le canzoni che definiscono un artista nel senso che se tu c'hai i pezzi diventerai come dice Bart Baccarat che l'ho citato anche a un certo punto gli dice se un pezzo non c'ha una melodia se un pezzo ha una melodia tornerai a sentirla se un pezzo non ha una melodia dopo un po' te lo dimenticherai quindi i brani sono fondamentali sicuramente però è altrettanto fondamentale la voce perché è la voce che comunica per cui è la voce che ti tocca o non ti tocca il cuore l'anima il cervello la pancia tu senti Springsteen può anche non piacerti Springsteen però percepisci che c'è una potenza vocale lì dentro che viene dalla pancia che non è una cosa intellettuale e come Springsteen anche tanti altri quindi direi che sì la voce è assolutamente fondamentale poi ci sono tante altre cose che fanno come dire che rendono un artista clamoroso anche la capacità di stare in scena la capacità di creare uno spettacolo la capacità di interagire con il pubblico insomma ci sono tantissime tantissime qualità tantissime virtù la capacità di correre come fa Mick Jagger quindi ci sono tantissime qualità in un artista non mi focalizzerei solo sugli strumentisti ecco ti dico questo grazie comunque sì sulla voce io sentivo l'ultimo disco di Isabelle a Geni ci sono due tracce alle quali partecipano nell'una Silvian nell'altra Peter Murphy i pezzi sono banali ma le voci sia di David Silvian che di Peter Murphy danno a quei due pezzi un upgrade inimmaginabile Peter Murphy è una voce che ha una risonanza una timbricità è anche un po' se ci pensi la differenza tra le versioni originali e le cover a volte sono cover che trasformano il brano e che quindi lo rendono qualcosa di diverso in assoluto diventano un'altra quasi un'altra canzone e poi invece ci sono delle cover banali e se uno ha una voce banale ahimè è difficile è difficile comunicare Kat Power ha fatto delle cover bellissime però sono sono casi molto rari di cantanti musicisti o band che veramente sanno ricavare il meglio dalle cover di solito tendono a plafonarsi troppo sull'originale non intervengono sull'armonia niente Kat Power è sicuramente uno degli esempi migliori secondo me di cover pure New York New York è una bellissima cover quella che ha fatto grazie grazie io devo andare vi saluto ciao buonasera Giovanni ciao grazie se tu vuoi fare una domanda ti ringraziamo siamo qui ti ascoltiamo se no io porgerei anche una domanda che aveva in mente di fare Carlo Alberto ma prima la tua non so perché non ci sia è successo qualcosa vi connetto ho visto era in chat stava stava commentando però non lo vedo fra noi quindi c'è ma non si vede peccato perché avrebbe sicuramente dato un ottimo contributo benvenuto alla Toscana sentendo il tuo accento sì benvenuta dalla Toscana ma in questo momento mi trovo a Spezia per questioni affettive è la mia città eh lo so lo so per cui ecco saluti saluti anche da da qui da Spezia e no ecco mi ha colpito che tu abbia sotto forse non me l'aspettavo ecco che ci sarebbe stata anche questa eh questa piccola digressione mi ha colpito come hai sottolineato eh quanto la musica ma anche la voce direi posso avere un potere terapeutico e è una cosa di cui io penso non siamo sempre o non siamo tutti realmente consapevoli non sempre diciamo oddio quando torni quando vai a un concerto grazie e torni stai meglio per un qualsiasi motivo è terapia è terapia poi c'è una terapia più profonda e una terapia più superficiale magari vai a un concerto ti diverti balli fai casino con gli amici ti fai selfie c'ero anch'io posti eccetera e vabbè e quello è un livello e poi c'è un altro livello un livello più profondo nel quale tu veramente esci da un concerto e ti senti trasformato e a me mi è successo di uscire da un concerto che mi sembrava di essere non dico un'altra persona ma mi sembrava comunque di aver toccato qualcosa ho capito qualcosa ho sentito qualcosa ho sentito perché non è naturalmente un discorso intellettuale è un discorso come dire di feeling di aver sentito qualcosa che mi ha che mi ha fatto stare profondamente bene è quello è quello è la musica è quello e oltre ai Massive Attack da un punto di vista diciamo più occidentale la scena africana che hai citato c'è qualche altro artista che ti ha emozionato da questo punto di vista ti ha fatto sentire ti ha dato una scossa terapeutica ma sai spesso e volentieri non è che necessariamente deve essere una scossa terapeutica magari semplicemente uno stato d'animo cioè ti portano in uno stato loro sono dei pifferai magici no cioè tu gli vai dietro se tu ti lasci il problema è spesso ai concerti che tu non ti lasci andare capita anche a me per carità ma se tu ti lasci andare e la persona verso la quale ti lascia andare è capace è in grado ti porta in posti insospettati possono anche essere i migliori della tua vita magari per una notte io penso per esempio a uno che è stato a parte Cohen perché andare a sentire Cohen è una liturgia un misto di sacro e profano che ti stordisce di emozione e c'è due volte Cohen nel libro perché una volta non bastava penso per esempio a Anthony and the Johnsons che è stato un concerto Anthony non so quanto sia popolare ma comunque è un transgender allora era ancora uomo anche se si chiamava con il nome femminile si chiamava una lei il quale ha questa voce altissima ha fatto un tour combattiato meraviglioso ha questa voce altissima che vibrava ti portava proprio ti sollevava da terra e ti faceva come dire galleggiare in un mondo di emozione ti portava quasi su un piano astrale se ti lasciavi andare lo seguivi capivi che la voce era veramente in grado di portarti in un altro mondo ma la voce ha davvero un potere pensate un cantante brasiliano adesso non so se tutti lo conoscono o no Milton Nassimento che io ho adorato fin dalla prima volta che l'ho sentito mi ricordo che negli anni 70 ancora andavo a Parigi andavo fino a Parigi a comprare sui dischi perché in Italia non si trovavano non si riuscivano ad avere di importazione beh lui ha una voce che è stata paragonata se Dio avesse una voce hanno detto hanno scritto in Brasile avrebbe la voce di Milton Nassimento per cui se mi permetti Carlo solo un inciso ha fatto Milton Nassimento ha fatto un lavoro bellissimo con le poesie di Ungaretti ah sì? cioè è stato uno dei primi a attingere diciamo all'alveo poetico di Ungaretti che notizia mi ha trasposto nella lingua il colto Andrea sentite sentite eh vabbè no niente niente guarda Carlo ti presento un altro Carlo è Carlo Alberto che finalmente è riuscito a commentersi gli ho rinviato il link nuovamente era distratto Carlo di la verità però ha in mano l'oggetto prezioso Carlo Alberto volevo fare io la domanda lui ha in mano la copertina blu perché questa è quella rossa invece ci sono due copertine è più rara sono quello che merita guarda qua eccole qua brava Sara io ce l'ho blu dimmi Carlo Alberto sentite? sì sì ciao la mia curiosità scorrendo questo stupendo libro con queste stupende foto la mia curiosità è sempre quella di capire la differenza che c'è ormai tra i grandi concerti e i grandi eventi e i piccoli festival e l'atmosfera che ci può essere nei locali voi avete la fortuna a Roma di avere la casa del jazz che secondo me è un luogo veramente straordinario per un certo tipo di eventi con un certo tipo di atmosfera io amo tutte le varie forme di nu jazz ho un debole per i Sons of Kemet e devo dire che ormai c'è una linea netta di demarcazione tra il grande evento e l'evento più raccolto più quello dei festival penso che ne so al Two Days di Torino che mette in vetrina tante realtà anche molto contemporanea ecco e la fortuna di avere che ne so vicini dei luoghi di festival importanti come poteva essere anche Arezzo Wave e tutti quegli eventi diciamo più underground credo che si stia proprio ormai creando una dicotomia proprio di due mondi che se ne vanno in due direzioni completamente diverse non so se tu la pensi così noi abbiamo già parlato prima ho già raccontato prima la differenza fra questi grandi concerti epici magari nelle proporzioni nei quali però magari ti trovi a 50 150 metri sono sicuramente di gratificazione soddisfazione minore rispetto al fatto di avere il performer a 10 a 20 a 30 metri cioè è chiaro che c'è una differenza sul fatto che sul fatto che stiano andando in due direzioni diverse capisco un po' quello che vuoi dire secondo me ci sono due tre problemi che coincidono uno è il fatto che i biletti si sono alzati di moltissimo e e quindi certo un certo tipo di artista che vuole avere un cachet molto importante non riesce più a suonare in posti piccoli deve per forza andare nello stadio o deve per forza cioè scegli di andare nello stadio e questo inevitabilmente crea crea una impossibilità di vedere le star in luoghi piccoli questo è un dato di fatto però voglio dire fino a un certo punto nel senso io ho visto comunque molti di questi concerti sono all'auditorium che è un luogo che alterna delle sale fra i 1200 e i 3000 quindi più o meno è un luogo ancora abbastanza contenuto molti molti di questi c'è un concerto c'è il papà del reggae che era una meraviglia una sorta Lee Scratch Perry quello che ha inventato il reggae che ha inventato Dub che ha prodotto Marley che ha veramente l'uomo del reggae ancora più di chiunque altro visto da un metro a un metro letteralmente abbiamo lanciato un punto abbiamo fatto flame touching lui con l'accendino io con l'altro accendino ci siamo toccati che è una maniera in post pandemia o forse addirittura in pre pandemia comunque è una maniera abbastanza singolare di avere un contatto e quello era un concerto visto all'Angelo Mai che è un piccolo circo alternativo a Roma fantastico te lo trovi lì però lì ci può andare una persona che richiama due trecento quattrocento persone non ci può andare chiaramente una persona che richiama migliaia perché se no le proporzioni non ci stanno quindi da un certo punto di vista sicuramente quello incide dall'altra parte spesso e volentieri però i grossi preferiscono stare magari fare dieci date contemporaneamente in un luogo piccolo che magari equivale a due grandi date ci sono anche quelli che preferiscono fare sei San Siro di fila come Vasco perché se lo possono permettere e poi ci sono tutti coloro che hanno ancora delle dimensioni umane non so se sta veramente andando in due direzioni diverse da un certo punto di vista capisco quello che vuoi dire non ne sono del tutto sicuro perché poi in realtà sai il momento di massimo successo poi può anche passare poi tu torni in posti più piccoli o tu sei in posti più piccoli è un successo immediato improvviso e invece vai in posti più grandi quindi come dire la situazione si muove è liquida non è stabile quello che sicuramente quello che sicuramente posso dire per la mia esperienza è che se stai in un posto piccolo con l'artista vicino è molto meglio cioè hai una sensazione diversa da quella di vederlo su uno schermo a 50 metri questo è sicuro certo certo ottimo senti faccio una proposta Andrea dato che tu avevi scelto una serie di doppie pagine che Sara io purtroppo è un po' troppo piccolo questo scritto lo potrei guardare sul computer perché se ci sono dei messaggi Sara se ci sono dei messaggi a cui vale la pena rispondere magari se me li metti in primo piano scusate io c'ho eccoci ciao a tutti Osea Gilmour che è un parente va beh insomma io adesso magari prima della fine do un'occhiata a quello che avete scritto però dato che c'erano queste doppie tu partivi dai King Crimson Sara recuperiamo un attimo quella doppia dei King Crimson l'unica a cui ho fatto quella prima se è possibile l'unica a cui ho fatto il pass color cremisi in onore le foto le hanno mandate i King Crimson stessi non si poteva fotografare quella sera lo dicevi nel libro esattamente eccola qua si poteva solo ascoltare ascoltare quando hai menzionato King Crimson prima quando hai menzionato King Crimson prima no parlando degli anni 70 la grande differenza di adesso rispetto agli anni 70 è che adesso si balla ai concerti cioè l'equivalente dei King Crimson che fanno stare tutti seduti che non ci si può muovere eccetera eccetera è musica d'ascolto è musica naturalmente più d'ascolto che da ballo anche se però la maggior parte dei concerti adesso ti puoi muovere puoi ballare è una grande differenza rispetto all'ora c'è stato un recupero del fisico sicuramente dagli anni 80 in poi che prima non c'era detto questo King Crimson volevi volevi fare dire qualcosa in particolare sui Crimson guarda io ho trovato il concerto che ho potuto vedere e ascoltare alla cave a un concerto straordinario la potenza di questo gruppo mi è sembrata freschissima cioè le loro soluzioni sono più avanti di certi che insomma stanno ancora provando a capire quello che facevano i King Crimson 40 anni fa insomma io li ho conosciuti con te con Discipline e Indiscipline era il periodo in cui tu ci facevi conoscere Peter Gabriel grazie a Dio Donald Fagan e quanti altri i King Crimson e poi sono andato a ritroso ma adesso io vado in avanti da Construction of Light a quello che segue i King Crimson hanno prodotto della musica contemporanea cioè questo è il punto premesso premesso che ho avuto il piacere non so se definirlo onore che la mia recensione di quel concerto è stata ripresa è stata evidentemente letta da Robert Fripp e ripresa e postata sulla sua pagina perché avevo scritto più o meno una cosa analoga poi naturalmente ognuno può descriverla come vuole ma ho descritto i King Crimson come un'avventura sonora senza pari nel nostro mondo contemporaneo cioè un'avventura che ti porta in terre veramente sconosciute perché loro hanno veramente una capacità di trovare angoli e di andare per traiettorie che non ti aspetteresti che sono evidentemente parte del sono il loro DNA ma il loro DNA è anche la trasformazione questa è la cosa interessante di Fripp come tanti anni cioè non è che è stato l'unico ma come David Bowie come David Byrne come Peter Gabriel stesso cioè come questa è un po' l'intelligenza del rock se vogliamo sono state persone capaci di di cambiare continuamente e i King Crimson sono davvero un'avventura sonora nel senso che hanno allo stesso tempo questa intanto è così buffo vederli soprattutto Fripp tu prendi Fripp ogni tanto su anche 21st Century Skids and Men è quasi scontato ma in tanti altri momenti c'è uno tsunami sonoro pazzesco cioè questi ti travolgono di suono elettrico potente con tre batterie che fanno ognuno un tempo diverso cioè no in realtà non necessariamente a volte fanno anche lo stesso tempo ma lo suonano in maniera diversa e tu sei lì e guardi questo uomo assolutamente immobile come se stesse suonando come dire musica classica sulla chitarra questi esattamente con il suo spartito e già già questo è strano comunque già già una prima stranezza ma poi loro sono capaci veramente di creare dei mondi nei quali portarti che sono e io capisco in un certo senso che lui non vuole che la gente sia distratta non vuole essere distratto lui e non vuole che la gente sia distratta perché davvero quando ci sono otto strumentisti di questo livello per tornare a Carlo Alberto anche quando ci hai otto strumentisti di questo livello è una tale gioia sonora sentire tutti i piccoli particolari tutti i piccoli dettagli di quello che suonano che effettivamente se facessi le foto o riprendessi probabilmente te le perderesti il pezzo dei King Crimson è forse uno dei pezzi più lunghi che ho scritto di pura recensione del disco e io scrivo molto meglio di come parlo quindi non riesco poi a recuperare il linguaggio che uno riesce a mettere in parola il libro è scritto molto meglio di come io potrei parlarne ma credo che siano siano da vedere credo che valga la pena vivere questa esperienza perché non sono per tutti ma molta di questa pubblica che sta sul libro non è per tutti ho spessato per esempio molto anche il tuo pezzo su Caparezza quando a un certo punto citi mi faccio di metafore ecco è questa virgolettata Caparezza è un poeta io mi chiedo una cosa Carlo se posso permettere Caparezza ho anche Salmo di cui vuol parlare poi Carlo Alberto poi nel suo specifico ti chiederà dunque io a scuola mi sono trovato dei ragazzi lo conosce Salmo ma questo ti parlo di diversi anni fa e ho detto no fatemelo conoscere apriamo la limba e mettiamo ma è bellissimo cioè questo è colui che è più convincente nel crossover che non è solo la ritmica e il parlato che ha la sua impedenza incidenza ma c'erano delle chitarre distorte c'era una fusione di elementi Carlo però io oggi quando chiedo ai ragazzi di oggi lo conoscete Salmo mi dicono di no allora questa fruizione così velocissima mi dicono di no magari conoscono dei trapper più vicini a loro ma magari hanno perso addirittura la connessione con una tradizione che dovrebbe essere più vicino a loro che a me è quello che mi sorprende non so se questa fruizione fai passare Salmo quasi per un vecchio e questo mi sorprende non lo faccio io ma guarda non lo so allora Salmo allora sono due persone evidentemente abbastanza diverse anche se sono due rapper ma come hai detto giustamente tu e come se stesso come lui stesso dice Caparezza è un rapper molto anomalo anche perché lui a un certo punto questo è un pezzo fatto al Festival di Loco Rotondo giù nella zona archeologica in Puglia e anche un altro sciamano sì Fusignano dietro il palco c'erano queste enormi costruzioni questi carri allegorici sembrava di stare un po' al carnevale di Viareggio per me che sono spezzino il carnevale di 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 Putignano invece per lui che che è pugliese e spettacolo molto ricco lo vedete dalle foto insomma veramente fantastico devo dire però lui dice io non sono un rapper tradizionale perché il rapper tradizionale parla di sé in genere io non parlo di me io mi faccio di metafora appunto è da lì che veniva il discorso perché lui è per esempio un allegorico cioè lui rappa come stile nel senso che è molto parlato è poco cantato molto parlato però in realtà il rapper per tradizione è uno che parla di sé dei suoi guai è un po' un bluesman dei giorni nostri è uno che attacca il sistema attacca il potere si lamenta eccetera eccetera e lui non è così per cui è un rapper assolutamente anomalo Salmo invece Salmo mi ha conquistato con la sua potenza intanto dicevi giusto bene insomma veramente lui è una rock band fantastica dietro c'è un batterista che pesta come un pazzo e queste sono le foto a Rock in Roma di qualche anno fa nel quale lui si era slogato un ginocchio credo facendo lo spettacolo il giorno prima ed è arrivato in carrozzella dalla quale poi alla fine non ha resistito alla fine si è messo quasi a ballare e Salmo Salmo invece è uno che ha potenza in quello che dice ha molta forza in quello che dice sì anche lui si attacca le situazioni che ci stanno intorno però non vive quella 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 sorta di autocelebrazione insistita che è quella dei rapper no? che parlano di se stessi di quanto sono fichi delle difficoltà che che hanno superato ma adesso hanno i soldi possono fare quello che vogliono cioè non è in quel mondo lì non è non è assolutamente gangsta rap e non è e non è neanche il rap di adesso capisco i tuoi studenti quando ti dicono beh insomma Fabri, Fibra Maracash e Salmo sono quelli della generazione prima di rap sono quelli che sono emersi 15 10, 15 20 anni fa Fabri prima di tutti gli altri e però sono ancora adesso sono quelli che noi che magari veniamo da un mondo più ricco da un punto di vista musicale ed esperienziale dei decenni precedenti capiamo di più perché sono più vicini a noi quelli invece i trapper sono oggettivamente molto lontani dal nostro mondo io so i miei figli ho un figlio che impazzisce per stare e basta ho quell'altro che va dietro al rancore rancore è bravo ecco rancore me lo cittano i ragazzi per esempio rancore è un bravo e loro io con dei figli anche io con dei figli adolescenti c'è Tassup che in questo momento funziona molto Tassuprime poi sì ad alcuni piace Geolier si fa fatica a uscire cioè io ad esempio un disco come Unplugged di Salmo lo considero un disco quasi d'avanguardia cioè con una forza acustica anche decisamente rivoluzionaria cioè questa commistione questo mashup strano di sonorità gli adolescenti gli adolescenti fanno ancora un po' fatica diciamo a a a compiere il passo che li stacca definitivamente dalla musica prettamente adolescenziale a una nuova interpretazione di quello che può essere il loro linguaggio ma con qualcosa in più sono mi sembra un bel concetto bravo cioè mi sembra che hai che hai sintetizzato bene la cosa fanno proprio fatica a uscire dal mondo adolescenziale nel quale le sonorità sono tutte un po' così con la vocina in autotune eccetera di entrare in un mondo e infatti infatti il mio ultimo io ho quattro figli l'ultimo ha 18 anni e lui è quello fanatico per Da Supreme e Svere Basta e e e e sì e e lo vedo in quello che dici vedo proprio che quando gli faccio sentire anche le cose belle della nostra generazione proprio a lui li scivolano proprio Teflon cioè non non sappiccica nulla lui vuole ma il discorso è tutto tu ti sei perso prima abbiamo parlato anche di questo il il suono cioè loro cercano quel suono ok le parole contano ma contano fino a un certo punto loro cercano quel suono e se quel suono è un suono un po' limitato come quello della trap di adesso a loro va bene questo non cercano qualcosa di più sofisticato sono d'accordo hai detto bene io considero Madame ad esempio un'assoluta fuoriclasse per la sua capacità di curarsi le cose anche da sola essere precisa scriversi i testi avere anche dei riferimenti importanti penso ad alcuni album moderni tipo El Madrilegno che secondo me è un album non male estremamente di riferimento per un certo tipo di identificazione di queste nuove generazioni però i miei figli ad esempio adolescenti la considerano sad cioè triste è una di quelle un po' tristi quelli che noi amiamo lo sono cioè non è che i nostri idoli sprizzavano gioia e felicità in tutte le canzoni che facevano però ma sai questa è una generazione adesso io non so tua figlia e veramente non voglio non voglio generalizzare però in generale questa è è una generazione che non va in cerca della profondità è una generazione un po' abituata anche dalla tecnologia dalla velocità con la quale ci muoviamo con la quale succedono le cose intorno a noi che il mondo da un momento all'altro c'è capito da un giorno all'altro improvvisamente scoppia la guerra in Ucraina e cambia il mondo c'è questa questa velocità che noi siamo abituati a vivere che noi magari mettiamo anche in prospettiva perché abbiamo avuto anche veniamo anche forse da un mondo più lento per loro che è invece la norma per cui la norma hanno una hanno la tendenza a vivere in maniera più superficiale più più veloce più per cui sai la tristezza la tristezza è un sentimento difficile io mi ricordo molto bene io ero uno triste a modo mio quando avevo 18 anni scrivevo tenevo lunghissime pagine di diario ho continuato a tenerlo fino a 30 anni in cui rovesciavo un sacco di cose che in realtà non ho mai voluto rileggere chissà che cosa c'è scritto dentro ce li ho tutti ma non li ho mai riletti però frizzato c'è c'è ritorna ritorna la discussione si molto interessante si sarà anche un segnale questo che forse abbiamo superato il tempo che ci eravamo in qualche modo dati di un'ora però attendiamo naturalmente le parole conclusive di Carlo Massarini intanto io colgo l'occasione per ringraziarvi della partecipazione grazie Carlo Alberto e Giovanni che si è collegato un caro saluto anche a Riccardo che ci sta seguendo e gli facciamo tanti auguri per tutto il nostro gruppo è composto da 80.000 persone che non si conoscono e ognuno ha la libertà di scrivere e pubblicare la musica che più gli piace nel rispetto diciamo delle norme di educazione che tante volte voi cari collaboratori siete indotti a ricordare a chi ha qualche diciamo difficoltà di messa in onda quindi intanto vi ringrazio pubblicamente perché tenete pulito il nostro giardino musicale il bello è essere proattivi giungere cioè alla possibilità di un dialogo anche se nella frenesia di cui parlava anche Carlo Massarini della della attuale condizione di capacità di fruizione di messaggi complessi è sempre più difficile mi rendo conto che il tempo di attenzione è minimo che se uno scrive qualcosa che è più lungo di dieci righe no? non viene letto solitamente che uno si rifà alle prime quattro parole e poi reagisce magari nel contenuto no? di quel di quel testo c'è c'è ben altro e si creano incomprensioni a volte sembra proprio da pazzi no? però ecco questa occasione aver avuto e aver ancora speriamo che torni Carlo Massarini in diretta ci fa onore noi siamo davvero grati della sua presenza e ci fa onore perché insomma riconosce che il lavoro che facciamo in questo gruppo è puro senza alcun altro interesse se non quello di promuovere la musica che gira intorno potremmo dire allora l'editor di Rizzoli ci dice abbiamo dei problemi di connessione con lui lo stiamo aspettando e noi lo aspettiamo per i saluti finali però intanto ci diciamo alcune cose approfittiamo anche per dirle ai nostri fantastici membri non li conosciamo tutti siamo 80.000 persone ma come vuoi dovremmo fare un raduno che ne so a Roma va bene un raduno dei mister fantasisti e andare tutti insieme 80.000 persone dovremmo entrare al Circo Massimo a vedere un concerto insomma non ci entreremmo tutti alla casa del jazz di cui parlava Carlo Alberto Carlo Masserini è entrato un attimo ed è uscito ma dai lo vogliamo lo vogliamo per i saluti finali però quello che dicevi tu Carlo Alberto sulle possibilità di diciamo realizzare concerti anche molto interessanti non pensare che a Roma sia così facile io ti ricordo l'esempio dei Medfellats che è quel gruppo del Profondo Nord ecco Carlo ti abbiamo stavamo intrattenendo grazie grazie forse per i saluti finali perché se vuoi noi siamo disposti ad ascoltarti ancora ma sai che le cose belle sono anche quelle che prima o poi e con tanta nostalgia e tristezza finiscono ci vuoi dare un saluto augurarci qualcosa finiscono la benedizione del gruppo dice oh continuate così non fatevi allora ho visto qualche messaggio nel frattempo che ero disconnesso non sapevo che Alberto Radius avesse fatto una decina di dischi onestamente io ce n'ho uno pensavo che fosse stata una produzione su lista abbastanza limitata grande Alberto devo dire che ci ha lasciato ed ha lasciato anche un po' un vuoto nel modo discografico italiano cosa penso dei male skin penso che siano un fenomeno che sono stati bravissimi a costruirsi loro e a costruire i loro discografici e manager un fenomeno internazionale dal mio punto di vista mi sembra ormai diventato una sorta di mix fra una stilata di moda e il rock però voglio dire sono quelle cose sulle quali non mi pongo neanche più il problema nel senso a me mi sono piaciuti molto all'inizio ho scritto due tre pezzi per come dire per elogiarli nel senso che mi sembrava una cosa fantastica che un gruppo rock avesse vinto Sanremo che avesse vinto l'Eurofestival che fosse entrato in classifica america che avesse fatto quello che ha fatto mi spiace che non sono nel libro ma mi hanno rimbalzato il photopass per due volte ho chiesto il photopass per andare a fotografare e mi hanno detto no non so perché non l'hanno mai spiegato poi la manager ha tornato a chiedere scusa gli ho detto che mi chiedi scusa a fare un mese dopo dammi il photopass che mi serve che mi chiedi scusa però insomma comunque è andata così ma loro comunque devo dire ad avercene di gruppi italiani che comunque funzionano così tanto all'estero al di là del loro valore secondo me hanno fatto tre quattro pezzi buoni aspetto gli altri però insomma però intanto funzionano e bene così beh chiudiamo anche perché siamo un'ora e un quarto dovevamo fare tre quarti d'ora grazie 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 allora ho sentito quello che dicevi prima salutando virtualmente le 82 mila persone che stanno sul tuo gruppo ti faccio i complimenti faccio i complimenti a te e alla tua ganga per aver messo su una situazione del genere mi capita spesso di trovarmeli dentro quando vado su home i vari commenti i vari post so che la musica che mettono che postano è di gran livello in generale di buon livello e quindi sono molto contento che si sia creato un piccolo spazio io non ho nessun merito nel gruppo naturalmente al di là del al di là del nome Mr. Fantasy però grazie Andrea grazie Carlo Alberto grazie grazia per per quello che fate perché cioè in realtà vi ringrazio io ma vi dovrebbero ringraziare tutti coloro che partecipano al vostro gruppo bene ancora grazie Carlo ti salutiamo con affetto ti vogliamo proprio bene guarda tu hai rappresentato veramente qualcosa di bello nella mia tristezza angoscia giovanile c'era quell'appuntamento notturno oddio eccolo là come diceva è un duro lavoro ma qualcuno è un duro lavoro ma che ovviamente è una battuta che non è duro per niente è un duro lavoro ma qualcuno lo deve pur fare e e io lo guardando ha provato a suonare ha provato magari non ci è riuscito ma insomma si è cimentato ha provato ad ascoltare ha provato ha provato ha provato bene grazie a tutti grazie a voi grazie a Sara che ha tenuto le redini di questo nostro incontro vabbè tanto noi ci continuiamo a sentire vedere parlare postare tutto grazie a tutti grazie ancora grazie ciao buona serata